Bentornati su MyFootballGersey, quella che vi mostro oggi è la prima maglia dell'Olympique Leone per la prossima stagione, la 2022-23, scusate, 23-24, in edizione FUN! FUN! A me le maglie del Leone piacciono e ogni anno cerco di recensirle, qui in alto vedete il costo, vi ricordo che include anche le spese di spedizione e vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate anche un coupon per ottenere uno sconto di 5$, qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, premete questo benedetto pulsante, a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia media, della versione FUN!